Non mettetevi troppo comodi, abbiamo solo 20 minuti. Il lavoro al centro, dalle pagine di cronaca alla riflessione politica, sicurezza e crescita. Come immaginiamo il lavoro nel nostro paese e come sarà? Gli ospiti sono pronti, noi facciamo le domande, sigla copertina e partiamo. Ora per vivere, non per morire. E invece 1041 persone non sono tornate a casa nel 2023, allungando così la triste lista delle morti sul lavoro. E i dati del primo trimestre 2024 non danno respiro, sono già 191 le vittime, a cui vanno aggiunti i 5 operai morti a Casteldaccia in Sicilia nei giorni scorsi. Eppure, secondo i dati di IMSS e INAIL, le ispezioni nello scorso anno sono aumentate, sono state circa 93.000. Ad essere colte in castagna, soprattutto le aziende del comparto edile, 7 su 10 avevano irregolarità. E non è un caso che proprio questo settore faccia il pieno di infortuni mortali rispetto agli altri ambiti lavorativi, già 25 dall'inizio dell'anno. Rischiano di più gli stranieri, tra le vittime sono il triplo di quelle italiane e la fascia d'età più colpita è soprattutto quella degli ultra 65 anni, seguiti dai lavoratori tra i 55 e i 64. Non è quindi un fatto di esperienza, dicono gli esperti, ma di rispetto delle norme sulla sicurezza, troppo spesso messe da parte dalle aziende stesse. Maglia nera alla Lombardia, seguita da Puglia, Emilia Romagna e Campania. Benvenuto al segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, bentornato nei nostri studi. Abbiamo Marinella De Maffutis, responsabile comunicazione e relazioni esterne dell'Associazione Nazionale tra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, benvenuta. Collegata con noi abbiamo Patrizia Sannino, che è vedova di un caduto sul lavoro, tra poco conosceremo anche la sua storia. Il professor Fabio Fortuna, economista che ben conoscete. Allora, io inizierei subito vedendo insieme le immagini di una piazza della Scala veramente inedita. Le vediamo insieme, se la regia ci aiuta, perché dopo quello che è successo a Roma, a Napoli e a Firenze, oggi il salotto di Milano è stato cosparso di bare, lo vedete. Sono 172 per la precisione e rappresentano le vittime sul lavoro del 2023 della Lombardia e nei primi tre mesi del 2024 si contano già 41 vittime. Allora, segretario, parto da lei perché è un'immagine molto scioccante che possiamo anche continuare a vedere per rappresentare questa strage infinita di cui continuiamo a parlare ma non riusciamo in nessun modo a mettere un'argine, no? Passiamo dalle prime pagine dei giornali, ci sono i dibattiti politici e quello che accade poi, lei dice, rischia di dimenticarsi anche dopo un paio di giorni perché ce n'è sempre un'altra, sempre più grave, sempre nuova. Allora, oltre all'indignazione, qual è il vostro impegno e quali sono le vostre proposte per cercare di mettere un'argine? L'impegno che noi stiamo portando nelle piazze, che vi ringraziamo per aver fatto vedere, è un impegno che parte da un principio, che è necessario rispettare la vita, rispettare la dignità del lavoro e bisogna che si faccia molto di più di quello che si sta facendo. Le immagini che voi avete fatto vedere rappresentano i morti oggi che abbiamo, fino ad oggi, registrato in Lombardia. Piazza del Popolo ne abbiamo messi 1.040. C'è in questo paese una questione culturale che riguarda il lavoro e la sicurezza sul lavoro. Perché la definisce culturale? Qual è il nodo? Perché non c'è la stessa reazione che noi abbiamo in altri casi. Non c'è un'indignazione generale quando noi registriamo una tragedia. e sono nella stragrande maggioranza dei casi tragedie che si possono evitare. Quindi lei dice che facendo vedere le bare noi diamo un'immagine fisica di quello che accade realmente. Sì, l'obiettivo è sensibilizzare le coscienze di tutti e ovviamente chiedere a tutti un impegno maggiore. Ognuno per le proprie responsabilità, al governo, alla politica, alle regioni, agli enti locali. Ognuno può fare qualcosa in più ed è un argomento che non deve dividere. È un argomento che deve vedere tutti insieme. Ecco, il rischio che questo tema diventi in qualche modo un argomento di scontro politico, lei lo vede e come lo possiamo evitare? Sicuramente c'è, come ogni fatto tragico. Noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio di far diventare questo il tema prioritario del governo. In altri casi la politica si è unita, destra e sinistra, maggioranza e opposizione si sono messe insieme per assumere decisioni importanti. Noi chiediamo alla Presidente del Consiglio di far diventare questo un tema prioritario e di far sì che alla Presidenza del Consiglio ci sia un confronto fra le organizzazioni sindacali, fra le associazioni editoriali e i ministri che hanno competenze, non è solo il Ministro del Lavoro. C'è il Ministro dell'Industria perché questo riguarda le aziende, c'è il Ministro dell'Economia perché servono più investimenti, c'è il Ministro della Giustizia perché noi... Ma tipo un tavolo aperto, un tavolo permanente di confronto. Un tavolo che sia in grado, se fosse per me, io farei uno di quei tavoli di confronto che si chiude e si apre nella Sala Verde quando si trova un accordo per trovare la possibilità di fare qualcosa di concreto. Torno da lei, voglio andare un attimo da Patrizia Sannino perché voglio che lei ci racconti la sua esperienza, Patrizia. Sì, intanto buonasera. Io sono diventata lidova con tre figli e quando è successo avevano 5, 8 e 10 anni. È stato un lungo calvario perché il riconoscimento della rendita è arrivato dopo quasi dieci anni con una causa che non finiva mai, quindi una giustizia proprio fatta di Lumanca e non solo. E poi avevo anche un altro problema, che mio marito che aveva avuto per lunghi anni come lavoro, cassa integrazione, era un cassa integrato, questo ha contribuito anche a far sì che la pensione di reversibilità fosse anche quella minima. Quindi è un problema veramente serio. Quindi oltre a avere il lutto, la perdita del proprio caro, mi sono ritrovata anche ad affrontare grandi problemi economici. Questo ha comportato che le mie due figlie non hanno potuto frequentare l'università dopo essersi diplomate. Quel minimo contributo che dava l'INA, quasi 200 euro, al termine del compimento del diciottesimo anno di età è terminato. E la grave difficoltà l'ho vissuta anche con l'ultimo figlio, che nel momento in cui si doveva laureare non l'ha potuto fare nei tempi stabiliti e quindi di conseguenza mi sono trovata anche con lui a non avere quel minimo di sopporto. Quindi veramente tutto questo è complicato, difficile e dopo il danno c'è anche la beffa. Non è cambiato niente, mi permetto di dire, dopo tanti anni noi viviamo ancora tutto questo e penso che l'ANMIL, che è l'associazione di cui mi onoro di far parte, si batte proprio per tutelare gli orfani e le vedove perché troppe cose non vanno ancora oggi e ancora oggi incontriamo tantissime donne che vivono questo dramma. Purtroppo gli onori della cronaca tutti i giorni ci rimangono. Patrizia, le posso chiedere una cosa? Secondo lei, nel suo caso, si poteva evitare? Probabilmente sì, probabilmente sì, perché i luoghi di lavoro non sono salubri e i luoghi di lavoro non rispettano. Cioè al centro non c'è la persona, c'è solo il bisogno di fare profitto, mi permetto di dire. E questo profitto ha portato troppe vittime e continua a portare troppe vittime a essere sacrificato sull'altare del profitto. Io penso che veramente bisogna cambiare tendenza e tutelare la vita in ogni sua forma. Grazie alla sua esperienza che cosa cambierebbe come prima cosa? Qual è secondo lei la cosa più importante da cambiare? La prima? Ma intanto, ripeto, il tema della sicurezza, la cultura della sicurezza è fondamentale. E poi garantire dei diritti, perché una donna che rimane sola, nel caso porto il mio esempio, ma è l'esempio di tantissime donne, ma non si può trovare con tutte queste difficoltà. Perché guardate, oltre a perdere il proprio caro e quindi vivere un lutto, dover elaborare un lutto, avere bisogno di un supporto psicologico per me e per i miei figli, ma insomma, voglio dire, e poi fare i conti anche da un punto di vista economico, guardate che è una tragedia emmane, forse è quello che probabilmente la politica, noi come Anmil lo sappiamo perché lo viviamo sulla nostra pelle, ma forse la politica non lo riesce a recepire, non riesce a recepire che noi alla fine come persone veramente viviamo un dramma e un dolore e lo viviamo da sole, questo è drammatico. Poi ecco, io sono fortunata perché ho incontrato sulla mia strada l'Anmil che mi ha sopportata da ogni punto di vista, però insomma, voglio dire, qua è un bollettino di guerra che non finisce mai, insomma, io mi appello al senso di irresponsabilità delle aziende, la coscienza della politica, bisogna invertire tutto questo perché è un dramma, è un dolore infinito, io dopo tanti anni, io lo rivivo sempre, io quando mi fermo e incontro le vedove come me, ma quel dolore che ho vissuto all'epoca per me è un dolore che si rinnova, non finisce mai e insomma, veramente, guardate, non se ne può più. Ecco, veramente, io guardavo le vedo per... Io Patrizia la ringrazio perché ha voluto condividere con noi la sua testimonianza, la sua esperienza che racconta più di tutti i numeri che noi raccontiamo continuamente, che forse non bastano più a raccontare quello che sta succedendo, perché dietro a ogni vittima, come ci ha raccontato Patrizia, dottoressa, ci sono altre vittime, perché le famiglie in qualche modo sono delle altre vittime. Infatti si pensa sempre che la morte di un lavoratore sia qualcosa di grave, ma in realtà quando si rimane infortunati, disabili, e noi sappiamo anche per i dati dell'INAIL che la mano destra è la parte del corpo che più si infortuna, quindi sono queste mutilazioni, allora dopo una perdita, una mutilazione, non si riesce neanche più a trovare un lavoro, quindi sembra una piccola disgrazia, ma poi in realtà incide su tutta la famiglia che si trova a dover, intanto improvvisamente, quindi del tutto impreparata, perché nessuno si aspetta mai che possa accadere un infortunio, ma all'indomani un infortunio, come diceva la Sannino, in realtà c'è un problema di supporto e di assistenza, c'è una normativa che risale al 1965, quindi come associazione che si occupa della tutela delle vittime del lavoro, quindi mentre giustamente e validamente il sindacato sottolinea l'importanza della prevenzione e la sicurezza in luoghi di lavoro e ci deve essere assolutamente. 1965 è un po' vecchiotta, diciamo. Un po' vecchiotta, ci sono tante cose che non sono assolutamente contemplate, è cambiata la società nel 1965. Cambiato tutto, cambiato tutto, professor Fortuna, è cambiato tutto, tragedie evitabili, dicevamo, come? E che cosa devono fare le imprese? Perché se ci fosse la chiave per risolverlo, probabilmente qualcuno ci avrebbe pensato, evidentemente c'è qualcosa proprio che non funziona, da dove dobbiamo partire? La chiave è sicuramente la cultura della sicurezza, che probabilmente, non voglio dire che manchi completamente, però è insufficiente. Quindi lei è d'accordo col segretario, è un problema di cultura? Assolutamente, la cultura di sicurezza, assolutamente. Per quanto riguarda le aziende, le aziende si trovano sempre, e non è una giustificazione, a combattere con problematiche legate ai costi. Quindi è evidente che garantire la sicurezza in modo ottimale, questo cosa vuol dire, secondo me? Che la sicurezza in modo ottimale vuol dire far tutto ciò che è possibile e lecito, anche per evitare i singoli errori umani, perché anche quelli possono accadere. L'ultima disgrazia, adesso vedremo risottare delle indagini, ma probabilmente c'è stata anche una sottovalutazione degli operatori, che non giustifica però il fatto dell'appalto e subappalto, Quello ne parliamo tra un attimo, perché vorrei rimanere sulla cronaca. Poi le imprese hanno, e questo è un concetto che si sta diffondendo anche in Italia, ma a fatica, una responsabilità sociale. Quindi debbono garantire a tutti gli stakeholder, i portatori di interesse, che entrano in contatto, i lavoratori innanzitutto, tutte le condizioni, anche perché devono capire che garantire la sicurezza migliora l'immagine, la reputazione e l'efficienza e la produttività. Allora, rimango sulla cronaca, perché vorrei andare a Casteldaccia. Insomma, domani ci sono i funerali dei cinque operaio morti sul lavoro, mentre lotta ancora tra la vita e la morte il sesto operaio coinvolto. In diretta c'è la nostra inviata, che è Silvia Squizzato. Silvia, inizia tutto, partiamo con le condizioni di salute del sesto operaio. Domenico Viola, buonasera. È ricoverato dal lunedì, nel primo pomeriggio, al Policlinico di Palermo. Le sue condizioni rimangono gravi. Sono leggermente più stazionarie, ma sembra rispondere anche ad alcuni impulsi neurologici, ma c'è un rischio di infezioni secondarie e ancora la sua situazione è critica per almeno altre 96 ore. viene seguito costantemente. Lui è stato il sesto operaio, l'unico a essersi salvato, che si è infilato nei cunicoli proprio della rete fognaria che si trova nel cancello dietro le mie spalle. È riuscito a essere salvato. Domani, dicevamo, i funerali, dopo che ieri e oggi si sono svolte le autopsie al Policlinico di Palermo, tra il dolore immenso di tutti i familiari. Domani i primi tre funerali, tra cui quello di Epifanio Alsazia, che è il co-titolare della Quadrifoglio, la società che aveva avuto il subappalto dalla Tec per questi lavori. Lunedì invece quelli dell'operaio più giovane e poi anche di Rinaldi. Lutto cittadino in tutta Palermo metropolitana per lunedì. Sul fronte indagini la procura di termini merese per ora ha messo nel registro degli indagati solo Nicolò Di Salvo, che è l'altro titolare della Quadrifoglio Group. La lista potrebbe allargarsi. Molti sono i quesiti ancora da risolvere. Infatti l'intervento doveva essere di questi operai soltanto in superficie. Come abbiano deciso di entrare nella rete fognario è tutto da stabilire. A voi. Grazie, grazie. Buon lavoro. Allora, segretario, torno da lei. Il reato di omicidio, per esempio, sul lavoro, per le aziende che non rispettano le regole, è uno strumento valido e percorribile, secondo lei? Sì, vorrei fare una premessa. Sui temi della sicurezza e sugli incidenti noi abbiamo tre momenti. Un momento che è quello che precede l'incidente, che è quello dove noi dobbiamo lavorare per la formazione, per la prevenzione. E non sempre qui si fa tutto quello che si deve fare. Poi c'è il durante. In quel caso però alcune cose si possono fare. Intanto aumentare le ispezioni degli ispettori. Intanto applicare alcune norme. Noi chiediamo che siano applicate nel settore privato le norme applicate nei bandi della pubblica amministrazione. Qui c'è un tema ricorrente nella strage di Palermo, nelle altre stragi di Bologna, di Firenze, che è quello del subappalto, del subappalto a cascata. Noi dobbiamo reinserire quella norma che prevede che il committente abbia la responsabilità del controllo della sicurezza e dei trattamenti economici. C'è una logica che diceva la signora che abbiamo ascoltato prima, che è quella del profitto. E noi non possiamo arrenderci alla logica del profitto. E poi c'è il dopo. Il dopo, lo abbiamo ascoltato. Noi non abbiamo giustizia. Intanto perché la riforma cartabia ha costretto molti di questi processi, siccome non c'è l'imputato che è agli arresti, vanno alla fine questi processi. E quindi molti di questi processi finiscono in prescrizione. Allora noi abbiamo chiesto e anche abbiamo discusso con il Ministro Nordio dicendo che c'è la necessità di inserire l'omicidio per la violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro, perché in molti casi non sono incidenti. Dove c'è una scelta sbagliata per raggiungere il profitto... Quindi bisogna agire a valle o a morte? A valle. Facciamo il caso dell'adorazio. Lì è stato manomesso il sistema di sicurezza per non far fermare la macchina perché bisognava produrre di più. Quello è un omicidio, non è un incidente. Va trattato come tale. Allora è necessario che la nostra giurisdizione intervenga prevedendo l'omicidio sul lavoro. Questo è un Paese che ha previsto l'omicidio nautico. E rispetto a 1.040 morti e 500 milioni di persone ogni anno subiscono un incidente più o meno grave. E io aggiungo, lo abbiamo chiesto anche al Presidente della Repubblica, è necessario istituire una procura speciale non per mancanza di fiducia nei confronti dei magistrati, ma perché in casi così ricorrenti e così gravi come nel caso della procura antimafia hanno bisogno di un pool di magistrati che sia in grado di dialogare fra di loro, di fare rete, di far circolare notizie, informazioni, consulenze. E allora su questi tre momenti noi dobbiamo agire. Il primo sulla formazione, applicando le norme e intervenendo sui subappalti a cascata. Perché, e chiudo, l'Europa ci ha chiesto di liberalizzare gli appalti, ma non ci ha chiesto di non applicare le norme sulla sicurezza. Questo è chiarissimo. Questo è chiarissimo. Allora, professore, prima e poi la dottoressa, sul banco degli imputati, a questo punto, l'aveva accennato anche lei, finiscono i subappalti. Ma esistono delle regole per gli appalti pubblici e si potrebbero estendere, come diceva il segretario, queste regole anche al privato? Io credo che la regolamentazione vada potenziata, perché no. Ma credo anche che, come diceva il segretario, bisogna crescere le ispezioni. Nel 2018-19 noi abbiamo avuto 168.000-155.000 ispezioni. Adesso il dato è 111.000, perché il personale è diminuito. Il personale ha detto, non dirigenziale, è passato da 7.600 unità a 5.000 e qualcosa. Quindi bisogna fare concorsi, assumere noi ispettori. Qualcosa si sta muovendo, ma molto rilento. Invece questo è un tema fondamentale, anche perché non possiamo consolarci guardando gli altri. Perché i dati Eurostat ci dicono che non siamo l'ultima ruota del carro, perché nella classifica, purtroppo, funessa dei morti, noi siamo al dodicesimo posto. La prima è la Francia, che è pure un paese civile. Quindi il problema c'è dappertutto. I criteri di valutazione sono diversi. Sì, bisogna vedere anche i criteri di classificazione. Lei che ne pensa, dottoressa? Penso che, oltre a tutto quanto è stato detto molto giusto, dobbiamo però ricordarci che tutti dobbiamo fare insieme la sicurezza. E bisogna cominciare dai giovani, bisogna cominciare dai giovani, dai giovanissimi. Noi da oltre vent'anni andiamo fin dalle scuole elementari, perché bisogna farlo capire da piccoli. Bisogna che tutti adottiamo la consapevolezza che il lavoro può essere rischioso, perché altrimenti siamo convinti di potercela fare. Talvolta si bypassano delle regole, delle norme, perché pensiamo che l'esperienza possa farci risolvere il problema. Invece serve un rispetto più rigoroso da parte di tutti, ma bisogna lavorare nelle scuole. C'è qualcosa di, ancora di più di quello che si è fatto con i PCTO, quindi con questa alternanza scuola-lavoro che riguarda solo gli ultimi anni. Ebbene, c'è un disegno di legge che è fermo alla Camera, è stato approvato alla Camera. Il presidente della Commissione Lavoro, Rizzetto, ha fatto sì che ci fosse anche un unanime consenso da tutte le parti sull'inserimento della sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado. E all'interno dell'educazione civica venisse inserita proprio la sicurezza. Ebbene, si è fermata un appello. Ce lo permetta anche attraverso questa importante trasmissione. Facciamola andare avanti. Ministro dell'istruzione, Ministro del Lavoro, insieme. Fate in modo che vada avanti, perché dopo che è stata approvata al Senato, è chi potrebbe negare un'approvazione. Ma poi, come tutte le cose, vanno applicate. I decreti attuativi sono fondamentali. Anche sul decreto 81, quello della sicurezza... Mancano 20 decreti attuativi, è ben ricordato. Perché noi abbiamo una normativa importante che molti paesi europei ci invidiano. Però per applicare quel decreto 81 mancano 20 decreti attuativi. E quindi è opportuno fare molto di più di quello che si sta facendo adesso sulla sicurezza. Allora, voglio parlare un attimo di occupazione. A profitto della presenza del segretario qui, vorrei vedere un cartello insieme a voi. Perché questo cartello ci dice che ci saranno quasi 494 mila assunzioni previste a maggio. In totale 1,6 milioni in tre mesi, fino a luglio. Questi sono dei contratti di lavoro che le imprese si dicono pronte a mettere sul piatto, anche in vista dell'estate. È una programmazione però che spesso continua a fare i conti con la difficoltà di trovare però i profili richiesti per quel tipo di lavoro. Allora, il 48% dei posti disponibili già questo mese insomma non sembra essere così facile trovare dei candidati. Questo significa che ci sono, mancherebbero 238 mila posizioni. Queste rischiano di rimanere scoperte perché non abbiamo le competenze giuste. Allora, il lavoro probabilmente c'è, non ci sarà abbastanza, ma in questo caso raccontiamo di un lavoro che c'è e non ci sono le competenze. Dov'è il cortocircuito? Il cortocircuito nella maggior parte dei casi sta nel fatto che i lavori di cui stiamo parlando, l'indagine a cui avete fatto riferimento, è un'indagine che fa riferimento per 300 mila assunzioni di tre mesi. Sono contratti a tempo determinato che spesso hanno salari da fame. Allora bisogna pagare beni lavoratori, applicare i contratti e sicuramente i giovani andranno a lavorare. Cioè lei dice che non è un problema di competenze, è un problema di disponibilità perché il lavoro è troppo pagato male? C'è un problema di lavoro sottopogato, non lo dico io, lo dice l'Istat. No, no, su questo tipo di posti a disposizione. No, no, su questo tipo di posto. D'altronde l'indagine dice che sono assunzioni che possono essere fatte di tre mesi e tre mesi. Sono i famosi trimestrali d'estate. Io vi spiro ad andare in giro a fare, noi abbiamo fatto con le nostre telecamere nascoste del nostro servizio comunicazione, delle indagini. Nella maggior parte dei casi, possiamo eventualmente inviarlo per una nuova trasmissione, vengono offerte ai ragazzi 12 ore di lavoro, 800 euro mensile, senza contratto e senza giorno di riposo settimanale. In quel caso i ragazzi fanno bene a rifiutare, rivendicano la dignità del lavoro e un trattamento economico dignitoso. Lavoro povero, come ci siamo trovati in questa situazione? Ma ci siamo trovati in questa situazione per tutto un insieme di elementi. Intanto l'ammontare le retribuzioni negli ultimi 30 anni in Italia è cresciuto poco più del 2%, in Germania, tanto per fare un paragone in lusso, del 30%. Quindi indubbiamente c'è un problema di fondo accentuato dall'elevata inflazione che abbiamo sopportato, che ha fatto diminuire il potere d'acquisto. Ma volevo dire, in riferimento al discorso della mancanza di certe figure, che è molto importante la formazione. Noi, io ho dedicato la vita alla scuola e all'università, noi avevamo 30-40 anni fa istitui tecnici che sfornavano continuamente persone che sapevano poi come inserirsi nel mondo del lavoro. Adesso noi sappiamo tra 5 anni di che cosa avremo bisogno? Ma lo sappiamo, infatti, l'istituzione tecnica è professionale. Il segretario non è così convinto. Lo sappiamo, secondo lei, di che cosa avremo bisogno? Qualcosa sappiamo, però purtroppo questo è un Paese che non ha mai programmato il futuro, non ha mai fatto scelte di politica industriale e non ha mai messo insieme in quel mismatch di cui si parla spesso le aziende e la progettazione del futuro. Noi oggi abbiamo una transizione climatica, una rivoluzione tecnologica e l'intelligenza artificiale. E non sappiamo dove stiamo andando. E non sappiamo dove stiamo andando e purtroppo questo è assurdo. Non ci rendiamo conto che continua il lavoro ad andare avanti e stare su delle impalcature a oltre 60 anni. Insomma, anche no. Grazie a tutti i nostri ospiti e a voi per averci seguito. Ci vediamo domani sera.